Sì, io credo che i due livelli, quello italiano per evidenti ragioni e quello europeo, devono fare delle sinergie, altrimenti qui non andiamo da nessuna parte, anzi andiamo indietro in modo, come dire, preoccupante. E quindi abbiamo fatto lo straniero che aveva cercato di essere un argine, poi io mi aspettavo un'onda, diciamo, di sovranismo, eccetera. In realtà è arrivato uno tsunami, quindi anche la difesa, ma tanto non so cosa avrei potuto inventarmi di più. Adesso, come già avevamo promesso, abbiamo iniziato questo percorso europeo, che è tanto più importante e utile, proprio perché sono altri paesi europei più rigidi da questo punto di vista. Mi pare che anche l'ultimo consiglio dei ministri degli interni non è andato benissimo, anzi. E credo che non arriveremo al vertice a nessuna riforma di Dublino. Nel frattempo, morti, cioè tutto continua come prima, più elementi di razzismo e più la presenza di un ministro, che uno lo può pensare come vuole, ma certamente non è un fautore, insomma, di un messaggio di calma e di razionalità, un fautore piuttosto di un messaggio sempre sovrecitato, probabilmente ancora in campagna elettorale, magari la realtà lo calmerà, ma anche di promesse assolutamente inagibili, infattibili, oltre che crudeli, se mi posso esprimere in questo senso, che fanno solo che eccitare gli animi invece di far funzionare la testa. Si può strizzare l'occhio sia all'America che alla Russia, dal punto di vista politica estera? Se uno è strabico, è possibile. Senti, invece Salvini ha usato un po' un termine che è stato molto criticato, che è stato pacchia, rivolto agli umiliari. Insomma, io credo che anche questo tipo di linguaggio, un misto di volgarità, spesso anche di squadrismo linguistico, di nuovo non aiuta, anzi è un modo di sovraeccitare le persone, a parte essere offensivo. Io credo che queste persone che vivono una situazione spesso così disperata e anche essere insultati non è una bella cosa. È gente che aspetta per mesi che la sua pratica sia esaminata, per poi magari essere respinta. E poi, secondo la teoria, venirebbe a rispedirle a casa, ma come è noto abbiamo solo quattro accordi, quindi dove li deve rispedire non si sa. Quindi, insomma, per come la vedo io nella gestione di questo fenomeno che starà con noi per decenni e che va trattato con legalità, ma anche con umanità, non ho l'impressione che stiamo facendo un passo avanti. Un'ultima cosa, come si organizza il movimento in Europa? No, questo già c'è un comitato basato a Bruxelles, e già ci sono i comitati nei vari paesi. Io, insomma, a seconda delle mie forze, cercherò di fare una qualche puntata, ma Parigi è un comitato piuttosto articolato, piuttosto forte. Il nuovo governo spagnolo dovrebbe avere un atteggiamento diverso, almeno dai primi contatti che ho avuto. E la cosa più importante è che ci sono anche dei gruppetti sia in Ungheria che in Polonia, e questa è una cosa a cui tengo molto.